Stimavo degli amici, purtroppo il cinema non dà il cinema italiano, non dà possibilità la scrittura, i racconti e evidentemente anche le scelte dei registi non danno la possibilità alla nostra Italia di farle, di narrare delle storie al femminile, non dicono al femminile ma insomma di narrare dei personaggi femminili che siano i personaggi complessi quanto a volta riescono un po' di più a farlo con quelli maschili, quindi non c'è possibilità come dire di fare del cinema, ovviamente fra i due ho sempre, sono nata con il teatro e finirò con il teatro, questo è sicuro, però nello stesso tempo so che a volte che particolarità, che sottigliezza ovviamente mi può dare il cinema, non un altro tipo di lavoro ovviamente, ma se non esistesse il teatro io non saprei che attrice sono, che attrice potrei essere.